Il centro-destra in vista delle prossime amministrative si conta ed inizia a misurarsi. Si pensano ad alcuni nomi, alcuni si lanciano sul tavolo per valutare le reazioni, altri si lasciano nelle segrete stanze per non bruciarli, ma la parola d'ordine sembra essere condivisione. Consigliere, quale sarà il candidato ideale del centro-destra? Comincerai? Non lo so, forse scorrano. Per il bene del centro-destra io preferirei non commentare. Attendiamo che i partiti nazionali ci facciano avere notizie, le loro idee, i loro nomi, ma io attendo più che altro i programmi di questo nuovo centro-destra che deve rappresentare il cambiamento della destra leccese. Quindi parliamo prima di programmi e poi vediamo di trovare anche i nomi. Mi sembra la cosa essenziale per dare una possibilità a questa città che lentamente sta sprofondando in un degrado mai visto. Sicuramente avrà le caratteristiche di essere un candidato che sia ben voluto dalla città, che comunque si sia speso per la città e che sia conosciuto dai leccesi. Intanto sembrerebbero essere tutti d'accordo in merito ad una chiusura verso nomi calati dall'alto in attese della prima riunione di coalizione che si terrà il 25 febbraio proprio all'hotel Tiziano. Quindi nessun candidato calato dall'alto? Con un candidato calato dall'alto io sicuramente non ci starei, su questo non c'è dubbio. Cerchiamo un profilo che sia un profilo civico di spessore, di livello, qualora non ci fosse questo profilo civico, su cui attualmente ho qualche dubbio, si possono aprire anche altri scenari interni al centro-destra, altri metodi di valutazione e di selezione di un candidato sindaco. Grazie a tutti.